ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio farvi vedere come ho ripristinato le scritte le parti verniciate in bianco di questa legnano emilio bozzi del 57 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti vi ringrazio per la visione e al prossimo video